Il rincaro dei pedaggi sulle A24 e A25 è rimandato. Il tanto temuto aumento della 34% sarebbe dovuto scattare dal 1 luglio, ma il governo, ha detto ieri in aula il ministro Enrico Giovannini, ritiene opportuno prorogarlo al 31 dicembre 2022. E' quanto emerso dall'audizione ieri alla Camera richiesta a gran voce dai parlamentari abruzzesi di tutti i partiti, in cui il ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha detto che rincari slitteranno fino al prossimo anno. Pericolo rimandato dunque per gli utenti che si servono delle autostrade tra Lazio e Abruzzo gestite da strada dei parchi. Rimangono però le questioni irrisolte. Innanzitutto il PEF, il piano economico finanziario, scaduto da nove anni. La stesura del PEF è stata affidata dal Consiglio di Stato a un commissario nominato ad hoc, ma la bozza, che prevede rincari su rincari, fino anche del 370% entro il 2030, ha finora raccolto i pareri negativi di tutti gli uffici competenti e ha scatenato la protesta dei sindaci del territorio. Il PEF dovrà consentire anche la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico delle infrastrutture. Strada dei parchi, pertanto, ha dichiarato alcuni giorni fa l'amministratore delegato Riccardo Mollo, nel corso di un'audizione nella Commissione Ambiente della Camera, declina ogni e qualsivoglia forma di irresponsabilità per eventi che dovessero occorrere. Ho vissuto il confronto con ben cinque governi che si sono succeduti in questi anni, ha rincarato la dose il vicepresidente della concessionaria Mauro Fabris, e non si è riusciti a trovare la soluzione per mettere in sicurezza l'autostrada. Intanto è al vaglio l'ipotesi di rescissione della concessione in scadenza nel 2030. Resta fortissima la preoccupazione per quello che si annuncia un micidiale conflitto giudiziario e amministrativo tra lo Stato e la concessionaria, ha fatto sapere il governatore Marco Marsilio, un conflitto che può provocare danni gravissimi all'Abruzzo. Una revoca, infatti, avrebbe costi enormi per le casse pubbliche. Innanzitutto la società del gruppo Toto riceverebbe due miliardi e mezzo di risarcimento, mentre questa, inoltre, non dovrebbe più contribuire al finanziamento del PEF. La quota prevista del concessionario è di due miliardi. Lo scaricabarile tra governo e strada dei parchi intanto si ripercuote anche sui lavoratori. Sono state avviate dalla Toto Costruzioni Generali, società in house della concessionaria che gestisce i lavori sulle due arterie, procedure di licenziamento per 110 dei 302 operai nel cantiere di Valle del Salto, in provincia dell'Aquila. Per Toto Costruzioni la scelta è legata al fatto che la messa in sicurezza delle autostrade non è mai partita. Per Toto Costruzioni la scelta è legata al fatto che la messa in sicurezza di Valle del Salto, in provincia dell'Aquila.